EOS 2024 ci dà l'occasione di incontrare l'onorevole Pietro Fiocchi, europarlamentare, membro del gruppo degli economisti e riformisti al Parlamento europeo. Pietro, è un piacere ritrovarti. Ci siamo trovati qui nel 2019, quando eri in piena campagna elettorale e adesso sei a fine mandato. Un bilancio di questi cinque anni? Allora, siamo cominciati con un Parlamento europeo iperambientalista talebano che ha buttato fuori di tutte e di più e purtroppo nei primi due anni è stata veramente dura a resistere. Abbiamo cercato di fare tutto il possibile, però alcune lotte le abbiamo perse. Vedi il regolamento che è uscito sul divieto del piombo nelle zone umide? Abbiamo cercato di combattere in tutte le maniere, ma alla fine i verdi hanno avuto la... Quanto meno però lo avete frenato e quindi si è prolungato il periodo di attesa? Dopodiché sì, un po' l'abbiamo frenato, un po' poi siamo intervenuti. In maniera molto efficace, prima con un decreto ministeriale, poi trasformato in legge a livello italiano per la definizione, uno delle zone umide e soprattutto per la depenalizzazione dell'utilizzo e il possesso del piombo nelle zone umide, che era molto importante perché io comunque ero pronto a fare andare addirittura la Corte di Giustizia europea e dirgli ma scusate adesso mi spiegate perché il cittadino italiano becca il penale, il cittadino francese per lo stesso reato prende 20 euro di multa e allora sono cittadini serie A, serie B. Allora su questo la Commissione ha fatto un passo indietro e ci ha concesso la depenalizzazione anche in Italia. Su tantissimi altri argomenti invece devo dire che dopo il secondo anno le cose sono cominciate ad andare nella direzione giusta. Si è creato anche un gruppo interparlamentare? Si è riuscito a creare un gruppo interparlamentare con più di 120 deputati di tutte le nazioni e tutti gli schieramenti politici, abbiamo lavorato su tante cose, uno sul lupo, il declassamento che è il primo giro siamo riusciti a avere un voto favorevole del Parlamento ma poi dopo la Commissione di Berna la Commissione ha fatto retromarcia e poi notizia relativamente recente perché dell'anno scorso finalmente la Commissione ha detto no è vero il lupo va declassato per cui questo è importantissimo soprattutto per i nostri allevatori di montagna e comunque chiunque vive le montagne, gli agricoltori ma anche quelli che vanno in giro, i rocciatori, gli escursionisti e vi dicendo perché il lupo è un problema come anche l'orso lo è. Ti sei interessato tantissimo anche del mondo della pesca con i pescatori che avevano anche loro dei grossi problemi? Anche quello è stato forte perché hanno fatto ben tre tentativi di fare un divieto totale del piombo sia nella caccia che nella pesca e per la pesca su alcune tipologie di utilizzo era veramente problematico, la prima volta li hanno bloccati perché erano riusciti a dire dell'assurdità pazzesche del tipo dicevano che ogni cittadino europeo mangiava di medio 80 kg di selvaggine all'anno, 80 kg, io ne mangio tanto ma non ne mangio tanta e calcolando quanto piombo c'era nella ferita di ingresso della palla secondo loro noi mangiamo decine di chili di piombo all'anno, saremo tutti morti di saturnismo. Lì gliel'ho ributtata indietro perché pensavano faccio lo studio di 700 pagine e non legge nessuno e io l'ho letto perché mi piace rompergli le scatole, per cui quella l'ha ritirata, poi sono tornati fuori di nuovo e anche lì gliel'abbiamo ribloccata con due lettere addirittura alla commissione infatti notizia del mese scorso, Terri Biettone è venuto fuori dal commissario europeo dicendo no, il divieto totale del piombo nella caccia e nella pesca non si può fare, vedremo magari qualche intervento su alcune aree ben definite, però su quello stiamo ancora in discussione per cui secondo me slitterà nel prossimo anno. Sono state tante comunque le battaglie che sono state condotte in questi cinque anni, adesso però arriva questa procedura di infrazione all'Italia, come andrà a finire? Allora, in realtà non è una procedura di infrazione ma è una messa in moro che è l'inizio della procedura di infrazione, il governo italiano e le regioni che sono nella lista dell'indirizzo a cui è stata spedita la lettera hanno due mesi di tempo per rispondere e non necessariamente devono dare una risposta finale, possono anche dire su questo problema stiamo facendo questo, stiamo aggiustando quello, prevediamo questo iter, stiamo facendo lo studio e per cui andiamo avanti, è una cosa che può durare anche 3-4 anni, posto che le regioni e il governo facciano le cose giuste, ci sono delle tempistiche che vanno fatte e io su questo mi sono già attivato, sto già rompendo le scatole a tutti perché faccio una risposta. Allora, tu sei candidato nuovamente al Parlamento europeo e questa è una cosa ufficiale, ti chiedo quando sei arrivato che Europa hai trovato e che Europa ti appresti a lasciare dopo 5 anni? Sicuramente c'è stata una svolta verso un'impostazione più grammatica, più pratica rispetto all'inizio che era veramente una follia dell'ecologia, per cui era ambiente, 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 chi se ne frega, fermiamo la caccia, fermiamo la pesca, fermiamo questo, chi se ne frega dell'economia, dei posti di lavoro, era allucinante, uccidiamo l'agricoltura e abbiamo visto questi giorni qua tutte le proteste degli agricoltori, giustamente, venivano fuori con delle regole a pazzi, c'è il divieto totale dei pesticidi, dei colcini, 20% del terreno agricolo per la biodiversità, questo, quell'altro, sopra e sotto, avrebbero ucciso la nostra agricoltura, tra le altre cose e volevano anche uccidere la nostra industria, adesso invece è diverso e io penso, vedendo anche le altre elezioni nazionali, che il prossimo Parlamento europeo sarà molto più di centro-destra e molto più programmatico, impostato su una visione utile, cioè va bene l'ambiente, è sempre al primo posto, ma c'è anche l'economia, ci sono i posti di lavoro. A proposito di economia, di agricoltura, stiamo avendo un problema veramente molto forte, soprattutto noi al nord, Liguria, Piemonte, Lombardia, che è quello della peste suina africana, sta avanzando a passi da gigante, è veramente un problema, mette in difficoltà la caccia, ma anche un settore economico di grandissima rilevanza, soprattutto per l'export. Sì, noi ci stiamo già fumando più di 20 milioni di euro al mese di esportazione, perché ci stanno chiedendo le frontiere, visto la presenza della PSA in Italia, questo è un problema, secondo me il commissario straordinario Caputo sta facendo molto bene in questo momento, però c'è tutta una serie di problematiche grosse, vedi per esempio il fatto che in Liguria tu devi portare l'ASL, il capo abbattuto, poi ti chiedono 70 euro per portare l'inceneritore la pelle e la testa, nel caso fosse pulito, per cui ti ridano la carcassa, ma tu devi dar 70 euro, se invece è positivo la trighinella, tu devi pagare 200 euro, una squadra di cinghialai un po' seria rischia di mettergli sul piatto 5-10 mila euro di soldi per la stagione. Per cui stanno facendo un lavoro utile per l'Italia, utile per i produttori di prodotti sui nicoli e devono anche pagare una tassa, pazzesco, e Caputo si sta attivando anche con l'aggiunta regionale Ligure per cambiare almeno questo, dovrebbero anzi, dovrebbero neanche fargli pagare le tasse regionali e statali per il lavoro utilissimo che fanno per la nazione. Grazie.